In questi ultimi due giorni vedo decantare il ruolo di Federica Mogherini, ha avuto un missale dell'Unione per quella che è stata anche la sua presenza a questo tavolo e Federica Mogherini è stata un impuntarsi di Renzi per ottenere quel ruolo. E poi appunto la vicenda greca è anche lì come ci siamo comportati, cioè come chi ci rappresenta si è comportato e come ne siamo usciti. Insomma, se la pressione è l'Europa e il Partito Democratico super europeista che ha portato di grande trionfo alle elezioni europee, come? Dobbiamo dire che cosa vogliamo dire e come siamo andati in queste grandi partite? Ecco, questa mi sembra la traccia del mio prossimo libro, dovrei continuare l'alba e non penso che questa cosa incontrerebbe un grande successo. Devo cominciare però dalla signora Mogherini, della quale mi pare che si stia occupando chi l'ha visto perché si è persa ogni traccia di questa signora. Tant'è vero che quando ci fu il primo incontro, quello avvenuto a Parigi, mi pare, tra la Merkel e Hollande, la signora Mogherini non è stata neanche invitata. Poi, è successo di tutto, nel frattempo, la questione dei migranti, anche lì la voce della Mogherini non si è udita. Non è che è una cosa che getti nel più tetroconforte, sconforte, intendiamo, però insomma non si è sentita. E mi domando per quale motivo si sia tanto battuto a Renzi per avere una rappresentante come la dottoressa, anche noi, in Francia, questa è stata ministro anche degli esteri, perché si sia battuto tanto per averla in un ruolo teoricamente importante come quella teoricamente, ho detto teoricamente, Paolo Acacchio. No, no, va bene, è importantissimo. E quando poi non si è capito quali interventi ella abbia compiuto, per cui della Mogherini penso che possiamo anche non parlare, perché non c'è, non esiste, forse esiste all'anagrafe, ma non esiste come personalità politica totalmente ininfluente a un punto che l'abbiamo persa di vista. Quindi chiudiamo il discorso. Per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, il discorso che avrebbe dovuto fare Renzi è... doveva essere un altro, cioè il protatto alla sincerità. Cioè, noi siamo un paese tutt'altro che razzista, tant'è che da 15 anni, forse anche 20, andiamo a raccatare per i mari dei poveri sventurati che vogliono lasciare il loro paese, li salviamo nei limiti delle nostre possibilità, evitiamo spesso che muoiano annegati, qualcuno ci sfugge, non certo per colpa nostra, comunque ci siamo svenati per fare tutto questo, anche per un'accoglienza che non potremmo permetterci. Li mettiamo negli alberghi, li mettiamo a volte anche lungo le spiace, come sta accadendo in questo momento, mi pare a venti miglia. Facciamo quello... e abbiamo sempre fatto quello che materialmente era possibile fare. E lo abbiamo fatto per molti anni. Adesso non abbiamo più il becco di un quadrino. Tant'è che non riusciamo neanche a rimborsare ciò che indebitamente è stato trattenuto ai pensionati. No, non possiamo. E Renzi, non è che me la prenda tanto per lui, ha dovuto trovare quelle scavotage, cioè di rimborsare una parte, ma naturalmente senza ottemperare alla decisione della consulta. non abbiamo soldi. Addirittura non abbiamo i soldi per dare un tetto agli italiani numerosissimi, ridotti in miseria, costretti a pernotare in automobili scassate, perché non hanno una casa. Non abbiamo niente, più non abbiamo i soldi per andare incontro alle esigenze dei democratici e per cui dovremmo dire all'Europa, signori, noi abbiamo fatto tutto il possibile per i migranti. Ne abbiamo salvati tanti, ne abbiamo fatti entrare tanti, troppi, in base, cioè il rispetto alle nostre disponibilità finanziarie. D'ora e voi. Andate voi, cari signori, a salvare i migranti nel mare nostro, che non è nostro, perché i pesci sono di tutti. Tant'è vero che quando i pescatori, italiani, di Mazzara del Vallo, oltrepassano il confine, diciamo, delle acque territoriali, vengono sequestrati, quindi può dire che il mare di tutti non è nostro. Magari forse il nostro, per cui il mare non è nostro, voi andate lì, signori francesi, signori spagnoli, signori tedeschi, salvate tutti quelli che potete, però attenzione, non dovete portarli a noi, perché non abbiamo i mezzi per ospitarli, tenetevi di voi. Questo sarebbe il discorso serio che avrebbe dovuto fare Renzi e prima di Renzi altri che si sono succeduti a Palazzo Chisi e invece nessuno l'ha fatto. in conseguenza il mio giudizio su questi signori è tutto negativo, ammesso che il mio giudizio possa avere qualche interesse, però se mi chiedete la mia opinione è questa. e allora, poi se vogliamo passare alla Grecia, o c'era qualcos'altro, la Grecia è stata una sorta di comica, perché questo comunistello affritto da un morbo che si potrebbe definire il bullismo, che cosa ha fatto? Ha, diciamo, appena insediatosi al capo del governo, ha riassunto 15 mila dipendenti pubblici, come se disporesse di molti soldi per retribuire. non solo, ha riaperto la televisione di stato greca, anche questa molto horrorosa, come sappiamo, cioè non è che quella italiana costi il buono, ma 13 mila dipendenti, e la mia curiosità sarebbe quella di sapere che cosa fanno 13 mila persone, visto che uno schermo è uno solo. e questo signore, si è messo a svedere, anziché ad impermiare. Beh, a fare i suoi il paese, è suo, c'è poco da discutere, ebbene va in Europa e anche forse giustamente respinge le proposte dell'Unione Europea, proposte di austerity, tagli, sacrifici, eccetera. Dopodiché non contento di rifiutare le proposte che lui è tornato nel suo paese e ha suggerito, anzi imposto un referendum per sapere come la pensassero i greci, i quali la pensarono esattamente come lui e cioè hanno detto il 60%, qualcosa di più del 60% dei greci ha detto no, non accettiamo le proposte dell'Europa. Una cosa si appetta, un'azione coerente, cioè tu proponi un referendum sperando che vinca il no, il no vince e tu invece che fare una politica coerente fai l'esatto contrario di quello che ha detto il tuo popolo e cioè di non accettare quelle proposte dell'Europa e ne ha accettate. Chi agisce in questo modo, cioè che chiede un referendum non per sapere e per realizzare ciò che vuole il popolo ma per fare l'esatto contrario di quello che vuole il popolo, come lo possiamo definire? A Milano uno così lo chiama un dirlo, non so ma in Veneto probabilmente si dirà, si potrebbe anche dire che è un granciullo, vedete voi come definirlo, però il senso profondo è esattamente questo. Ora questo signore ha sfasciato anche il suo partito e questo non mi dispiace più di tanto e per far passare le indecenti proposte è costretto a chiedere il voto degli avversari, attaccando i quali ha vinto le elezioni politiche. Insomma siamo di fronte a una farsa la cui gravità la lascio giudicare a voi, basta descriverla, non c'è bisogno di commentarlo, basta descriverla correttamente. Questo è successo, ma la cosa più sconvolgente è che l'Italia parteciperà alla sovvenzione ulteriore della Grecia, già ne sono avvenute, noi per esempio italiani già abbiamo dato tonato, dico tonato, 40 miliardi di euro, perché tonato? Perché è ovvio, evidente, pacifico che la Grecia non ci restituirà il becco di un quadrino, come non ci restituirà gli altri paesi che gli erano prestati? Non soddisfatti di questo abbiamo deciso festosamente, con gli applausi di Renzi, di dargli altri 14, a me sembra di essere al manicomio. Qui non siamo di fronte alla politica, ma a un tracca psichiatrico, chiamate gli infermieri. E rimanendo in tema di trama psichiatrico, una curiosità, la signora Merkel che ha condotto un po' questo balletto, adesso, qual è la tua lettura dell'atteggiamento della signora Merkel, che si è portata dietro poi Orlando, Renzi, eccetera, eccetera, dove ci porterà tutto questo, veramente, nonostante poi le rassicurazioni di Paduan, se tu le ritieni veritieri oppure se fa parte sempre della commedia degli epilipoci del nostro corpo e in alcune situazioni. Allora, di Paduan non vorrei parlare, perché, scusate, uno che si chiama Paduan, sappiamo tutti che cosa vuol dire Paduan, e si fa chiamare Paduan, è un critico, o no? Cioè, uno che non riconosce neanche il proprio cognome, come lo giudicate. Io non so, Benetton o Benetton, non lo so, ma chiunque, chiunque, addirittura, disconosce il proprio cognome, secondo me è un fesso, cioè, no, no, non c'è altro da aggiungere. Per quanto riguarda la Merkel, la parte che a forza riguarda l'altra, comincia a mi accerci, anche fisica Merkel, non so se è mai giovitato qualche uomo, mi può, mi può capire, non so, a un certo punto vai a lavorare in un ufficio e trovi una segretaria che ha la coppa, e tu ti spaventi. Ha toccato anche la segretaria con la coppa, questo è ancora un poteo. Poi passano i giornali, passano le settimane, a un certo punto, da quale si fanno, non nemmeno male con la coppa. Così è la Merkel, la forza, ti guarda. Comincia a pensare anche fisicamente, anche fisicamente, però è in dubbio che la signora Merkel sia no brava, bravissima, strabrava, magari l'avessimo noi, magari, magari, perché lei fa benissimo gli interessi dei signori tedeschi, peccato che gli interessi tedeschi non coincidono con i nostri, anzi collidano, questo è vero, è vero. Ma noi che siamo imbecilli, che cosa facciamo? Ogni volta che abbiamo un nuovo Presidente del Consiglio, costui va subito a Berlino, non a Rosse, a baciare la pantofola alla Merkel. Attenzione, quando Monti divenne, per fin misteriosi, Presidente del Consiglio, la prima cosa che fece fu quella di recarsi a Berlino a baciare la pantofola alla Merkel, la quale, al termine dell'incontro, organizzò una conferenza stampa, ve lo ricorderete, e disse, le proposte, le idee, i programmi di Monti, questo nuovo Presidente del Consiglio italiano, professore della russa, mi hanno impressionato, 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 ci siamo colpiti, chissà cosa andrà dentro, perché allora non lo conoscevamo bene, chissà cosa andrà dentro, invece si è invitato a dire, signor sì, ja, 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 e poi se ne è andato. È durato poco, il nostro estinto, perché ormai è stato sostituito da Enrico Letta, il quale, dopo tre o quattro giorni che era a Brazzolucci, ha fatto la stessa cosa, è partito, ha sprobattuto in aereo, Berlino ha incontrato la signora Merkel, anche lui ha piaciato la pantofola, non si sa esattamente che cosa si siano detti, sta di fatto che anche con la circostanza, la Merkel fece immediatamente dopo l'incontro, una conferenza stampa, e adesso questo giovane premier italiano, giovane italiano, mi ha detto quale sono le sue idee, quali siano i suoi programmi, e sono rimasta, non impressionata, molto impressionata, una che si impressiona davanti a Enrico Letta, secondo me, beh, si sta prendendo un po' per il culo, scusate, no? Allora è finita, è finita. Enrico Letta è durato molto poco con lo suo stile, ed è stato subito sostituito da Renzi, anche lui, immediatamente, Palazzo Chigi, ed è andato a Berlino. Anche lui era talmente eccitato che ha sbagliato anche ad aranciarsi i bottoni del cappone, era così in pratica, era così, si presentava così, il che aveva un effetto comico, però anche un po' tenera la situazione. Benissimo. Con l'Ombio, durato più di un quarto d'ora, al termine, Merkel fa le solide conferenze e dice, questo giorissimo presidente del Consiglio italiano mi ha veramente molto, molto impressionata. di passettino, perché ho anche questo qui, la presa per il culo è completa. Infatti, tutti e tre hanno assolutamente ubbidito alla caccelliera, evidentemente c'è un atteggiamento, diciamo, di sottomissione, che è palese, lo si coglie anche dagli atteggiamenti fisici dei nostri presidenti del Consiglio, che dimostrano in questo modo di essere totalmente succubi e non meritano altro, non sono assolutamente in grado di far valere le nostre esigenze, di far valere anche le aspettative degli italiani. Nessuno ci ha mai spiegato per quale motivo l'Europa, l'area cosiddetta dell'Euro, sia costituita da 19 paesi, ma ce ne sia soltanto uno che comanda. Quindi siamo di fronte a Quartorraic. Io all'argomento Quartorraic ho dedicato un libro che è negli Oscar Condadori e ho cercato di spiegare tutte le motivazioni che hanno indotto la Merkel a comportarsi quelli giustamente e che noi, senza senso critico, abbiamo subinamente accettato. Siamo in questo momento, diciamo così, in una situazione quasi drammatica, perché continuiamo e tutti continuano a difendere l'Euro. Se tu, casomai, quando sei davanti a qualcuno, sei in televisione o in un qualsiasi salotto e manifesti le tue diversità sull'Europa e sull'Euro, ti guardano come un demente. Berti guardano con disprezza, dice questo cretino, non sa che l'Euro è irreversibile, che è la frase che gira, dice l'Euro è irreversibile. E questi idioti non sanno che è irreversibile se è soltanto la morte, verso la quale andiamo a galopo, perché se andiamo avanti così non è che potremmo fare di meglio. Come si possa pensare che una moneta unica possa stare bene a 19 Paesi, ciascuno dei quali ha un'economia diversissima? Io questo francamente non lo capirò mai. Probabilmente sono cretino, però devo aggiungere perché gli economisti, se avete fatto caso, tutti gli economisti, tutti, anche i più gravi, sono poveri. Sono poveri. Mi viene il sospetto del Seuro. Siamo anche cretini. Perché sennò sarebbero ricchi. Sarebbero anche ricchi, quanto meno che restanti. Invece sono costretti a farsi fare senatori a vita per poter sbargare l'onario. Questo, secondo me, la dice lunga anche sul loro livello, non solo mentale, ma anche professionale. Dottore, stiamo nel tema della politica, allora. Salvini, come lo vede? Ha la stoffa per diventare il leader del centrodestra? Beh, a giudicare dalle ferme la stoffa mi sembra un po' debole, diciamo. Però, insomma, devo dire che il centrodestra oggi non esiste più perché Forza Italia si è dissolta per i motivi che tutti sappiamo. Adesso marcia sul 10% secondo i sondaggi che non sono decisivi, che però, dando la temperatura del momento, solo come il termometro, no? Tu provi la febbre, in quel momento si entra da 7-2 il termometro, te lo dici, e i sondaggi sono questa cosa. Quindi Forza Italia si è dissolta. Ma perché si è dissolta? Perché una volta era forte il centrodestra, se non che era come un salame, un bel salame. La prima fetta l'ha tagliata così, vi ricorderete, quando Forza Italia di Venne, Ptl, la prima fetta la tagliò così. La seconda fetta, ma piuttosto consistente, se la tagliò Fini, quello al quale hanno tolto la scorta adesso con tre anni di ritardo. Comunque voglio pazienza, insomma, una bella fetta, perché tra l'altro non se ne è andato solo, si è voluto via parecchia. Poi la terza fetta, un'altra fettona, se ne è portata via Alfano, Alfano che era il segretario del Forza Italia, e nominato da Berlusconi, il quale Berlusconi che cinque minuti dopo averlo nominato, tanto per incoraggiarlo, gli disse che non aveva il quito. Anche chi non l'ha studiato, un latino intuice che non aveva il quito è qualcosa grave, molto grave. Non è finita. Poi un'altra fetta l'ha tagliata da Meloni, quella di Fratelli d'Italia con la russa, non è finita. Poi un'altra fettina l'ha tagliata fitto, e taglia la fetta, taglia la taglia, a Berlusconi è rimasto un culetto, che a lui piace, però è proprio un culetto. Quindi non penso che Forza Italia, o un suo leader, ammesso che ci sia, possa ricostituire il salame. No, il salame è andato. Nel centrodestra però i voti ci sono ancora, parlo degli elettori, non dei partiti. Quelli che votavano centrodestra cinque, sei, sette, dieci anni fa ci sono, ancora non sono morti. Qualcuno voterebbe, anche qui non lo so. Quindi questi voterebbero volentieri ancora per il centrodestra, se ci fosse, invece non c'è, e vedono solo Salvini. Il quale Salvini sarà anche poco elegante, sarà talvolta poco rassicurante, però è in grado, indubbiamente, di interpretare i sentimenti e i risentimenti degli italiani, e anche gli umori e i malumori. Un signore del genere è fatale che abbia un minimo di successo, tant'è che adesso ha superato il 15 per cento e si avvia a conquistare il 20 per cento. Ma il 20 per cento, secondo me, non basta per fare concorrenza a Matteo Renzi, non basta. Bisognerebbe che anche al sud ci fosse una sensibilità maggiore verso certi tempi. In realtà, invece, al sud ce l'hanno ancora nel profondo dell'animo una certa antipatia per la Lega che per anni ha fatto una politica antiterrona, diciamo, parliamoci chiama antiterrona, come se tutti i mali italiani diventessero dai meridionali, i quali oggi è difficile che dirlo soffragio con sesso. Sì, qualcuno sì, ma non in misura sufficiente per costituire un partito alternativo al Partito Democratico. Per cui Salvini è l'unico leader che si faccia sentire che abbia una caratura, ma forse, dal mio punto di vista, non è in grado di prendere in mano tutta l'orchestrina e di portarla alla Vittoria. Grazie. Vittoria, tanto per abbandonare momentaneamente la politica. Tu sei tagliente con tutti i grandi personaggi, economia, politica, non risparmi nessuno, però sei uno dei pochi, tra l'altro la merda è chiusa a parentesi, visto che io mi occupo di motori, sei uno dei pochi che ha avuto il coraggio di dire che Agnelli era un grande blef. E non hai nascosto da subito, da quando Gabetti l'ha preso la guida del gruppo fiatro, non hai nascosto da subito la tua grande ammirazione per Marchionne. Tutti in Italia lo hanno criticato e continuano, tra l'altro criticarlo nonostante quello che sta facendo, mentre in America lo considerano un fenomeno. Marchionne ha detto io con i sindacati non ci parlo più, parlo direttamente con Obama. e ha spiegato che mentre gli industriali italiani avevano, in un certo senso, sono partiti da una forma di ricchezza e hanno globalizzato, come è scritto, la miseria, invece Marchionne è riuscito a globalizzare l'opulenza, facendo un'operazione assolutamente intelligente. Ecco, perché secondo te nonostante tutto, nonostante adesso con il rilascio dell'Alfa abbia messo sul piatto un piano di rilascio, un investimento di 5 miliardi, perché, nonostante tutto, continuano ad accanirsi in Italia contro la politica di Marchionne. Sì, mi pare che la tua analisi sia perfetta. Aggiungo che Gavetti, Gianluigi Gavetti, è forse l'artefice venuta dall'unascita della FIAT. Non si dice anche perché Gavetti è un personaggio che non ama mettersi in mostra, non sale sul palcoscenico, ma l'assunzione di Marchionne è stata fatta proprio da Gavetti, è stato Gavetti a imporre questa decisione che si è liberata, salvifica, felice. Ma è ovvio che Marchionne stia sulle valle in Italia, perché in Italia prevale ancora, nonostante la caduta del muro di Berlino, la dissoluzione dell'impero sovietico, nonostante il fallimento dei sindacati italiani, non sappiamo tutti che c'è stato un fallimento, ormai solo Landini riesce ad avere visibilità perché è uno che quando fanno, se tu metti un mano nel microfono per portarlo via, devi fare intervenire quelli con la fiamma ossidrica, parla, urla, e quindi in Italia uno che urla così ha sempre un certo senso. In sostanza in Italia ancora prevale la mentalità, la cultura non filo-impresa, ma anti-impresa, anti-capitalistica. La semina che ha fatto il Partito Comunista per anni e anni e i sindacati naturalmente che erano la cinga di trasmissione, braccio armato, diciamo così, del PC, hanno trasformato la mentalità di molti italiani che sono ancora convinti che per esempio non sono i grandi capitalisti a Ragnelli, su cui voi dirò qualcosa, anche nei confronti delle partite IVA c'è la favola in giro secondo la quale le partite IVA sono tutti evasori fiscali, tutti ladri, tranne i lavoratori dipendenti e qua di certo che non sono ladri perché le trattenute fiscali le fanno la fonte, guarda a caso chi le paga quelle trattenute di imprenditori. E noi siamo nemici degli imprenditori, però attenzione, anche questo governo qui, ma anche i precedenti, continuano a dire di destra e di sinistra che il problema numero uno in Italia è il lavoro. Bisogna creare nuovi posti di lavoro e rilanciare l'economia. Ma secondo voi chi può creare posti di lavoro se non gli imprenditori? E invece tutta la politica nazionale, oltre a quella sindacale, sono ostili alle imprese, cioè noi combattiamo coloro i quali possono creare i posti di lavoro. servono sempre a livello psichiatri. Infatti non c'è un'altra spiegazione. Qui bisogna riprendentare le scuole infermieri, le psichiarme, perché bisogna reagire i manicomi, bisogna fare cose. Siamo alla follia. Come fai a creare i posti di lavoro se non fai nuove imprese? Se le imprese non sono fiorenti, come possono assumere i manicomi? Allora, di fronte a uno spettacolo così deprimente, Marchionne, che è un uomo intelligente, che è un uomo anche internazionale, quindi non è il burinetto abruzzese, che so io, campano o siciliano, è un signore che ha lavorato all'estero, conosce bene i mercati, conosce anche gli uomini. Visto lo spettacolo, valutati gli uomini di cui era circondato, dopo aver fatto vari incontri con i sindacati, si è persuasivo che qui la battaglia era persa. E se ne è andato via, e ha salvato la via. E quindi lui ha fatto la sua parte e ha fatto benissimo. qualche fesso riprovera a Marchionne ciò che Marchionne non ha fatto. E cioè, la Fiat per molti anni è stata suffragata, diciamo così, da una serie di uomini politici che hanno fatto avere a Daniele, alla famiglia Daniele, molti soldi per tenere aperte le fabbriche. molti soldi, e finalmente, ma la colpa di chi era della Fiat che riscuoteva o di quei coglioni che gli davano, e quelli erano chi politici. Ma Marchionne non si è fatto dare neanche una lira dallo Stato. Se ne è andato e ha dimostrato a tutto il mondo, per sicuro l'Italia che lui mi fa capire, per sicuro l'Italia, che la Fiat non era assolutamente morta, ma poteva riprendersi. Se no che, guarda un po', Marchionne negli Stati Uniti è considerato una spesa di Dio intera e noi continuiamo a considerarlo un affamatore del popolo, quando invece la situazione, esattamente come ve l'ho descritta io, per non ho nessun interesse, perché non ho neanche una fidanzata nella famiglia Agnelli, che non aveva difendere nessuno, quanto a Giardi Agnelli, che è stato l'uomo più adorato d'Italia, addirittura paragonato a un monarca, il vero re d'Italia. Ma che cosa ha fatto questo signore? Ha ereditato una bella fabbrica di automobili da Valletta e ha restituito un rottame quando è morto, perché non ha saputo fare niente, nulla. Ha fatto il presidente della Confindustria, l'ha fallito perché ha introdotto il punto di contingenza famoso, d'accordo con l'AMA, quindi quando un padrone va d'accordo con un sindacalista o c'è qualcosa che non vale ai sindacati o c'è qualcosa che non vale al padrone, è evidente. Comunque, oggi Agnelli è considerato una specie di divinità, ma l'unica cosa veramente originale che ha fatto è stata quella di mettere l'orologio sul borsino della camisa, un po' poco per essere rispettato da noi che per fortuna siamo ancora qui. Grazie. Direttore, a proposito di emergenza, quanto tempo resta ai giornali cartacei? L'informazione corre sul web, abbiamo capito, insomma, gli attenti ai lavori che leggerono i giornali, per cui gli stacca la sua lunga esperienza, li ha salvati tanti, li ha rilanciati, crede di avere, insomma, che abbia un po' la speranza. La domandina è questa. Io credo che il giornalismo, così come lo facciamo oggi, sia agonizzante, ma questo però lo sai che tu lo facciamo vedere anche, esattamente però come la tv generalista, che comincia a dare dei pronti segnali. Ma il motivo vero per cui i giornali cartacei sono in difficoltà non è solo la concorrenza spietata di internet della stessa televisione tipo Skype che ogni mezz'ora fa un notiziario oppure ciascuno di noi quando entra in macchina la mattina che va al lavoro o quando ritorna dal lavoro la prima cosa che faccio è della radio e lì ci sono subito quattordici notiziari che ti danno informazioni in tempo reale e quando tu arrivi a casa e poi metti, che so io, d'inverno il capotto, d'estate la borsa e poi ti scaramenti il poltrono la prima cosa che fai è accendere la televisione e lì già vieni informato di tutto. Quindi la mattina dopo quando esci di casa e vai in eticola e chiedi mi dia il codile della sera, e lo prendi in mano di dire spontaneo di dire all'edicolato no guarda il diavolo di oggi che questo vuol dire. Infatti noi facciamo i giornali esattamente come li facciamo 30 anni fa quando non avevamo la concorrenza di altri media. E' evidente che se noi seguiamo il notiziario spicciolo abbiamo il terrore del buco, il cerco si fa sempre il buco, è la notizia che non abbiamo valorizzato, non abbiamo capito, non abbiamo colto. E' così il giornale non muove il futuro. Invece avrebbe futuro un altro tipo di giornalismo, cioè smettere di fare dei giornali supermercato perché i supermercati più forniti sono quelli di internet e della televisione, e fare dei giornali boutique. Cosa intendo? Fare una scelta delle notizie più importanti, interpretarle come tale e soprattutto fare dei servizi, diciamo così, speciali e esclusivi in modo che il lettore sia comunque incuriosito e una parte dei lettori sia indotta ad acquistare il giornale. E sarà una parte che sarà sempre una litta. Quindi non si tornerà più alle vendite di 500-600 mila copie come avveniva in passato. Questo se lo dobbiamo togliere dalla testa. Faremo dei giornali da 100 mila copie se saremo capaci di farli secondo quello che io confusamente ho sintetizzato oppure non venderemo neanche quelli e andremo a casa tutti disoccupati. Io me ne foto perché ho 72 anni e quindi... Cioè a me diciamo che non me ne frega niente di giorno. Mi sono anche antipatici da quando sono vecchio. Mi sono antipatici sull'occhio. No, anche perché aspettano solo che tu crepi per tenerti il posto. Non sono capaci di rubartelo qui nel posto se fossero capaci. No, aspettano che tu crepi oppure ti fanno gli scappetti, fanno le cose così, ti svitano i culoni della ruota, della macchina e fanno morire qui. E invece io sto molto per far rabbia a loro. Però i giovani devono sapere che hanno l'obbligo di portare qualcosa di nuovo. Ma se invece continuano a imitare quel vecchiume, il peggior vecchiume che noi abbiamo fatto per 50 anni, non potranno andare da nessuna parte. Perché è l'esigenza di sapere che cosa accade nel mondo. Ci sarà sempre questa esigenza. Ma sono i giornalisti che devono adattarsi ai nuovi media. Non sono i media che devono adattarsi ai giovani. Bisogna che si mettano in testa che è necessario inventare qualcosa di nuovo e che soledichi la curiosità del pubblico. Altrimenti il pubblico si adagerà in poltrona. E con grande facilità azionerà sempre il telecomando e si vedrà quello che è di gara. Ma siamo arrivati all'imbecilità nei giornali cartacei che quando ci sono le gare di motociclismo o di automobilismo, prendono quattro o cinque inviati e gli mandano che so io in catara. Per raccontarci il giorno dopo quello che io il giorno prima ho visto in televisione. Bisogna essere imbecilli. Arrivano con delle molte spese mostruose perché costano questi viaggi che pesano sul bilancio dell'azienda editoriale e nessuno mai leggerà un articolo di un evento al quale ha assistito. Lo stesso vale per le olimpiadi che vediamo tutto in televisione. 30 inviati. Io, quando ero a Corriere della Sera, sono stato 15 anni, ho fatto anche le olimpiadi, ne ho fatto quelle di coreano. Eravamo una squadra di 10 persone. Facevamo a Puglie per scrivere qualche articolo se la volevi scrivere. Io, che non ero un giornalista sportivo, mi prendevo un argomento extrasportivo, per me lo so io parlo. Ma, scusatemi, che senso ha? Se vedo le olimpiadi che tutti ce le guardiamo in televisione, naturalmente ciascuno di noi guarda la disciplina che gli piace di più, ma a volte anche per Pugliezzi a vedere persino... Io mi appassiono talmente che vedo anche il sollevamento pesa, che secondo me è una perversione. questa birra, la confesso per la prima volta qua. Sì, sì, anche il tiro con l'arco. Però non so cosa sia. Però mi affrontano. Quindi, insomma, noi facciamo queste cose. Le partite di calcio, i giornali rimangono aperti fino a mezzanotte, fino a mezzanotte, per poter darvi i risultati delle partite di calcio. Ma chi ha appassionato di calcio? Le vede tutte la domenica. Non si fa altro che vedere... E noi continuiamo a fare giornali così. Ecco perché andiamo qua. Ma, naturalmente, non andremo più bene con il tempo. Ma se avendo l'attenziassimo il tiro, forse qualche giovane potrebbe essere ancora assunto. Invece oggi nei giornali è molto più facile essere licenziati. Certo. Allora, io vorrei fare le due domande relative proprio alla professione giornalistica, approfittando del fatto che in questa platea i colleghi sono molto ben rappresentati. Lei, dunque, il 2 luglio è uscito sul giornale un suo pezzo in cui lei, partendo da un caso personale, concludeva attaccando esattamente l'ordine dei giornalisti e invitando loro a cercare sui misteri, anzi a tornare a scrivere, che forse sarebbe stata una maniera migliore per guadagnarsi da vivere. E lei questo articolo lo concludeva invitando i dirigenti dell'ordine dei giornalisti a tornare a scrivere, dicendo così almeno, ammesso che appunto, così almeno forse riuscite a guadagnarvi da vivere in maniera. Ecco. Quindi la domanda era, diciamo, volendo l'ordine, che cosa resta se ci sono delle alternative e se lei 40 anni fa la pensava allo stesso modo. Sì, sì. La seconda domanda, quando parlo dei corsi di formazione chiedo ai colleghi, ma tu li hai fatti i corsi? Ah no, 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 io li farò quando Feltri, Sallusti, e se Mauro e Centra li avranno fatti. Allora la domanda è, lei li ha fatti? Sì. Cara ragazza, io i corsi li ho fatti ridendo, ridendo, autosfottendo, mi considerando stupidi coloro i quali li hanno libertati, lo dico direttamente, ma li ho fatti perché fin tanto che questo organismo stupido esiste io mi attecco perché è la legge che ha creato l'ordine. Devo però aggiungere che l'ordine dei giornalisti esiste solo in Italia. Non esiste in nessun altro paese, in Inghilterra, dove è nata la democrazia alto che Pericle, alto che Grecia, saluta Massocater, è nata in Inghilterra. La libertà di stampa è nata in Inghilterra. Eppure in Inghilterra non solo non c'è l'ordine dei giornalisti, ma non c'è neanche la Costituzione tanto adorata e quindi non c'è neanche la Corte Costituzionale, ma non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno perché noi siamo tanto bravo, anche tanto ignoranti. E i giornalisti sono una sintesi di questa parofonia da ignoranza che c'è nel nostro paese. Perché me lo dicono a che cosa serve l'ordine dei giornalisti. a nulla, ma non esiste, non servono gli ordini professionali in un paese liberale. Che a cosa servono gli ordini professionali? Servono a bloccare la strada ai giovani che restano esclusi. Perché noi con le nostre corporazioni medievali teniamo la nostra catrechina poi abbiamo l'ordine che è uno sfogo. Perché quando uno come giornalista non è magari molto considerato, non è molto riconosciuto, non ha avuto un grande successo e magari la fortinaia... Dubita versito che sia un giornalista che si stuola, ma hai letto un suo artigo, ha visto il tradizionale. Ecco, allora cosa fanno? Ma questo succede anche dagli avvocati. Si buttano nell'ordine sperando di diventare consiglieri, di fare qui, di fare... Così quando qualcuno ti dice ma tu cosa fai? Io sono consigliere o presidente dell'ordine nazionale, anzi regionale, e capite che insomma siamo di fronte a uno squallone pazzesco. No, ma di che cosa succede? Che costoro che nessuno conosce, che erano solo dei personaggi ai quali riconosci immediatamente un'autorevolezza tale da poter giudicare chissà chi. Questi qui, se tu fai una cosa che a loro non piace, ti processano. Ve ne dico una che mi farà fare la pipì sotto dal libero. Io al giornale, qualche anno fa, feci in conseguenza degli attacchi che subirono gli estracomunitari di Calabria da parte dei calabresi. Ricordate? Non ricordo? Rosano, Rosano. Io feci il seguente titolo con un mio articolo che spiegava i motivi, per cui avevo fatto questo titolo. Hanno ragione i negri. Hanno ragione i negri. Mi hanno processato non perché io abbia attaccato i negri che invece difendevo, come d'altra parte non c'avo nel titolo, ma perché avevo usato il termine negri. Per quattro anni sono stato sotto processo. Poi assolto perché il pudore ce l'hanno persino quelli dell'ordine dei giornalisti. Sono stato assolto tre, quattro mesi fa. Tant'è che poi, per ridere, la mattina che ho saputo che ero stato assolto, ho chiamato il taxi a casa mia. Il taxista mi dice, ma dove la porto? Mi porti via Neri. Guarda, guarda. C'è via Neri? Ma no, via Neri. Ma dove è via Neri? Ma io non posso... Neri, bene perché a dire? Non posso usare la parola negri. Via Negri quattro, doveva essere... Siamo arrivati a questo. Cioè, alla Negri... L'hanno messa a l'indice, perché non si può dire Negri. Quando non sanno gli ignoranti, i giornalisti ignoranti, non sanno che Negro ha un'avarenza spreciativa negli Stati Uniti, perché c'è stato il fenomeno dell'azismo. Ma fino a noi i Negri si chiamano Negri, ma nessuno si offende. Tant'è che poi in televisione... In televisione... Fanno finire perché ci sono state tappallate... In televisione fanno una trasmissione per discutere di questa cosa del Negro che io avevo scritto... Allora, discussione tutti... Mi davo la tossa... No, ragazzi, non si può questo linguaggio... Siamo politicamente corretti... Mentre pure tre fotti delle regole... Allora c'erano anche due Negri... Uno Idris... Uno Idris... E un altro giornalista... Bravo dall'altro... Di... Di... Rai 3... Ecco... Mi hanno difeso loro due... Sono stato difeso dai due Negri... Gli altri mi arreddavano la nostra... Ma che... Cioè... Capite che... Capite che un ordine così... Deve solo scomparire... Ma per decenza... Non serve a niente... Ma non servono neanche gli altri ordini... Intendiamoci... Lo sa... Qualsiasi confessionista... Lo sa... Che l'ordine... Serve solo a rompere le scatole... A limitare la libertà... E soprattutto... A rompere le scatole... A quelli che loro considerano... Immeritatamente arrivati... Questa è la storia... Io... Ma io... Me ne fischio... Che l'ambienta... Poi che vuole ferire l'ordine... Ma... Però... Mi stupisco... Come... Come voi... Possiate difendere... Un istituto... E... Ha soltanto... No... Ho sbagliato... Quando ho detto... Che solo l'Italia... C'è... Un altro paese... Che ha voluto... L'Albania... Basta... No... No... Grazie... Bene... Siamo... Insomma... Ma... Parliamo di turismo... Prima di lasciare... Il... Il momento dedicato... A Cortina Top Press... Che è... Questo premio speciale... Di cui poi ci parlerà... Chiara Cricetti... Visto che dunque... Parliamo di turismo... Che oggi abbiamo parlato di turismo... Tu hai fatto notare più volte... Come in Italia... Ed è in dubbio... Non sappia valorizzare il suo patrimonio... Siamo il paese... Che ha la maggior concentrazione di siti... UNESCO... Quindi siti patrimonio per l'umanità UNESCO... La maggiore densità culturale... Eppure abbiamo... L'hardware... Quindi abbiamo... L'hardware di bellezza... Ma non abbiamo il software... Quindi non abbiamo più... L'infrastruttura che possa gestire tutto ciò... Tra l'altro... Leggevo recentemente che... In Inghilterra... La Tate Gallery... Fa un fatturato di merchandising... Che è pari a tutto il fatturato... Del comparto culturale pubblico italiano... Questo vuol dire... Che noi per esempio... Non abbiamo dei dirigenti... Dei dirittori del museo... Che siano anche scelti... In base a dei criteri proprio... Manageriali... Perché... Ma l'ho visto pochi giorni fa... In televisione... Un servizio fantastico... Sulla Rai... E cioè... Una... Una visita... Fatta... Di sorpresa... Alla casa di Pirambello... Casa di Pirambello... Che non è... Non è a Versailles... Non è a Casettina... 54... 54 custodi... 54... Se ne era presente... Nessuno... Ma neanche l'Italiano... E ne era presente... Uno solo... Gli altri 53... Secondo voi... Dove non è... A caso... Non si sa... Non si sa... Allora... Se noi... Usiamo il nostro patrimonio artistico... E... E... Culturale... In questa maniera... Non c'era a stupirsi... Non solo che... Si trascuri... Una fonte di... Di repito... Che potrebbe essere... Immensa e indesauribile... Ma addirittura... La disprezziamo... La capistiamo... E allora... Però... Qui è inutile continuare... A dare la colpa... Ai governanti... Perché i governanti... Sono... Lo specchio... Di un popolo... Nostro... Che spera solo... Di sfruttare le situazioni... Per perdere le stime... Se si fa un gacchio... Questa è la storia... Allora... Se noi non li conosciamo... È un po' come la storia... Dell'immondizia... No... L'immondizia... Perché c'è tanta immondizia... Quando io... Non c'è tanta immondizia... Perché eravamo talmente poveri... Che... Avevamo dei rifiuti... Non c'erano dei rifiuti... Non c'erano dei rifiuti... Mangiavamo anche quelli poveri... Non lo so... Però non c'erano... Forse qualcuno... Mi guarda... Che... 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 Che ha un certo... Mi può... Confrontare... In questa osservazione... Ma comunque... È evidente... Che se tu... Non rispetti... Come cittadino... Non solo le norme... Le leggi... Ma anche... Il... Il senso comune... Il senso civico... Che non è scritto... Deve aver detto... E se non ce l'hai detto... Non è inutile continuare... Io una volta... Quando uccisero... Il... Commissario Cassarà... A Palermo... A Palermo... A Palermo... Lavoravo a Polire... E mi mandano a Palermo... A fare servizio... Sulla morte di Cassarà... E allora... Cerco... In... La segreteria del giornale... Mi cerco... L'albergo... Perché... L'albergo dalle Palme... Che è il numero... Il più bel albergo... Di Palermo... Noi... Io... Arrivo... Ressore... Sede... Come dice... Devevo anche... Scrivere l'articolo... E... La mia camera... Procesia... Pronta... Il terzo piano... E... Io... Entro... In camera... Il letto... Il frigorifero... Era... Guardiamo... E dico... Ma scusate... Ma che camera... L'avete data? E mi cazzo... Un pochino... Peggio... Stato peggio... Perché... La camera... Me l'hanno rifatta... In qualche modo... Ho chiesto... Due bottiglie di acqua... In erano... Quando scrivo... Bevi... Sai... No... Tra i pochi... Bevi l'acqua... Me l'hanno portati... All'una del giorno dopo... Se lo tendono... Il panne... A Palermo... Funziona così... Cosa volete... Mi faccia... Ma dove va... La Sicilia... Ma come può sfruttare... Il turismo... Ma poi ce lo sfruttano bene... Niente... Non hanno la mentalità... Non c'è nulla di antropologico... In quello che io dico... Non sono le persone diverse... A Palermo... O a Milano... O a Torino... No... Le persone sono sempre le stesse... È l'ambiente che ci condiziona... Perché noi creiamo in un contesto... E ne imitiamo tutte le manifestazioni... Dalle peggiori alle migliori... Ma siccome prevalgono le peggiori... Ecco perché succedono queste cose... Ma non si vuole molto a capirlo... No... No... Noi però ce la pigliamo con Renzi... Ce la pigliamo con Letta... Ce la pigliamo con Monti... Con Berlusconi... Con Rumor... Ne abbiamo avuti... Quanti ne abbiamo... 55... 56... No... No... E allora forse... Dovremmo fare anche un po' L'esame di coscienza... E vedere... Computarci meglio... Scusate... La parerica finale... Sempre... Monsignor Bartini... Ma... Grazie... Grazie...